4.000 partecipanti tra giovani e famiglie alla Marcia per la Pace, 1.500 presenze nel corso di tre giorni, 400 persone che hanno preso parte ai panel, 120 le persone ai workshop e 200 i bambini e ragazzi presenti alla Cittadella della Pace. Sono questi alcuni dei numeri dell'ottava edizione di Utopic Fest, il festival internazionale sul conflitto promosso da rondine nel borgo alle porte di Arezzo. Una tre giorni per riflettere sul tema, scommettere sulla fiducia, averla, riceverla, perderla e ritrovarla. Sono stati giorni in cui abbiamo accumulato veramente un patrimonio di fiducia, questo era il tema e la fiducia non è una cosa estratta ma concretissima che nasce nelle relazioni. Sono approfondite le relazioni antiche e sono nate tantissime relazioni nuove, lo dicono anche i numeri del festival di quest'anno. Le ultime battute di Utopic Fest hanno visto nomi d'eccezione dall'ex magistrato Gerardo Colombo al giornalista, scrittore e autore televisivo Michele Serra che si è confrontato sul tema, datemi una macchia, solleverò il mondo, l'ironia che trasforma i conflitti. Bisogna imparare a vivere dentro, dentro i conflitti è quello che facciamo tutti nella vita, poi c'è una macro dimensione che è quella delle guerre, delle nazioni in lotta e poi c'è una micro applicazione quotidiana che è quella della nostra vita e del nostro rapporto con gli altri. Io penso che chi si illude di vivere senza conflitti è patologico, cioè non ce la farà mai e vive male, chi invece accetta di vivere dentro i conflitti è sulla buona strada. L'ultima giornata si è aperta con il Giardino dei Giusti e Artigiani di Pace dove sono stati piantati tre nuovi alberi, uno dei quali dedicato a Utello Laurentini, che con la sua determinazione portò in tribunale i responsabili della strage dell'Eisel dove il 29 maggio del 1985 perse il figlio Roberto. È una sentenza che ha fatto giurisprudenza per il calcio italiano e che ha migliorato i parametri di sicurezza negli stadi e soprattutto lui poi negli anni si è sempre speso per la lotta contro la violenza nello sport, quindi un impegno civico rivolto soprattutto alle nuove generazioni e Artigiani ha avuto la capacità di trasformare il suo dolore per la perdita di un figlio in uno strumento di pace. L'appuntamento alla prossima edizione di Utopic Fest è stato già fissato da venerdì 6 a domenico 8 giugno 2025. Utopic 25 sarà immaginazione e sotto ovviamente quale sarà la domanda? Il futuro è un sogno o un incubo? È l'immaginazione pulita dai veleni dell'odio che può pensare un futuro di sogni e non un incubo.